Siamo con Dorati, uno dei protagonisti di questa bella sfida fra Virtus Latina Scallo e Flora 92, portiere che è riuscito a tenere in piedi la propria squadra, soprattutto nel momento topico della partita. Dobbiamo dire che il Flora 92 ha fatto un gran bel match, voi però avete fatto qualcosa in più, alla fine è arrivata la quarta vittoria consecutiva. Sì, oggi abbiamo vinto, dovevamo vincere, prendere i tre punti per il mister e per il nostro capitano, che sono in un lutto per la perdita della mamma del mister e la nonna del nostro capitano e quindi oggi volevamo prendere questi tre punti. Abbiamo trovato una squadra veramente organizzata, abbiamo 12 punti ma questi li abbiamo veramente sudati. rispetto alle altre partite e alle altre vittorie. Complimenti ai ragazzi, è veramente una bella squadra organizzata. Millardello è stato anche lui uno dei giocatori migliori di questo incontro, un incontro che è stato molto equilibrato, sicuramente deciso anche da episodi, un episodio che è stato nettamente sfavorevole per voi, è stata l'espulsione di Maciucca, proprio la metà del secondo tempo. Avete giocato nemmeno, avete preso il gol, insomma peggio di così non poteva andarvi. No, diciamo che le ultime tre gare perdiamo sempre di uno, massimo due gol, giochiamo, facciamo la partita, la giochiamo, facciamo anche un'ottima impostazione di gioco, però niente, non riusciamo a sfatare questo top iniziale d'inizio stagione, che abbatta la prima gara che abbiamo vinto, adesso siamo a tre sconfitte di fila, però andiamo avanti perché il gioco c'è, il carattere ce l'abbiamo e siamo convinti che risaliamo la classifica sicuramente.